Questa modalità operativa ci consente non solo di colpire dal punto di vista militare le organizzazioni criminali mafiose, ma ci consente di attingere anche alla loro provvista in nero, ai loro beni. Colpire il patrimonio delle organizzazioni mafiose equivale a indebolire la struttura dei clan, la loro capacità di penetrare e inquinare il tessuto economico di un territorio consapevole di questo agire decisivo per tramortire le cosche e salvaguardare la parte sana dell'imprenditoria la direzione centrale anticrimine della polizia ha eseguito un maxi sequestro di 100 milioni di euro fra cooperative socioassistenziali, aziende agricole, locali pubblici, alberghi e ville conti correnti e depositi bancari all'estero nei confronti dell'imprenditore Mamertino Giuseppe Busacca e dell'ex consigliere comunale di Milazzo Santino Napoli attualmente ai domiciliari per concorso esterno attivi in svariati settori La capacità impositiva sul mercato e quindi la capacità anche di entrare nel mercato degli appalti della sicurezza, della salute, dell'assistenza sociale, cooperative agricole, cooperative di tipo faunistico Ad entrambi gli indagati è stata applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, 5 anni al soggetto ai domiciliari, 3 anni e 6 mesi all'imprenditore Grazie a tutti